La polizia sono arrivata e hanno detto che tutti escono, che tutti devono uscire. C'è ancora altre persone che stanno dormendo. Ci hanno avvisato, però ti dicono che oggi devono uscire, però dove devi andare, dove devi dormire. Il buon Natale è buono, anche io non mi piace, però è difficile vivere. Sì, tu lo sai, io non ho paura.